un po' più deciso un po' più 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 uno un po' più ma a scendere o a salire si mettevano qua, pam pam pam, aprivano e non c'è da fare perché la terra arrivava là cioè da fermo, non lo possiamo partire noi però qua magari arrivare un po' coraggioso ti devi dare con la fiducia, il problema è che poi te la trovi davanti in piedi così tu sei già dietro come pesa, non sei capace quel momento che sbagli vai là Zampini è arrivato figlio mio ah l'ha tentata? sì sì magari è più spaventosa di quello che sembra magari se andate più asciutta dici ci provi meglio no poi ce la dire che non è obbligato a stare qua se inizi che vai anche su di là va bene è importante che riesci a sparare su guarda zampini tra i ragazzi la raccoltura di quello che si può fare è un'altra parte è un'altra parte che riesce a sparare su si mette il mondo Grazie. 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 No, non ho le braccia così lunghe. Non c'è arrivo. Ma va che se andavo più deciso secondo me ce la facevo.